Il primo dicembre, come ogni anno, ricorrerà la giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Alcuni in questi giorni hanno chiesto se valeva la pena ancora ricordare e parlare di AIDS. Assolutamente sì, perché ogni anno nel nostro Paese oltre 4.000 persone sono di nuovi contagiati, sono dei nuovi sieropositivi e tra questi c'è una fascia di giovanissimi veramente significativa. Oltre questo dato, circa il 40% dei nuovi contagi sono donne che molto spesso inconsapevolmente entrano in ADS conclamata perché vengono contagiate in rapporti fissi, non in rapporti occasionali. Contagiate da uomini che hanno invece rapporti occasionali. Per cui sì, parlare di ADS ha senso, anche perché un nuovo sondaggio dell'AIDS condotto su giovanissimi, un nuovo questionario, dimostra quanto i ragazzi siano impreparati, non usano il preservativo e oltre all'ADS contraggono anche altre patologie sessualmente trasmissibili e soprattutto non conoscono e non sanno come questo virus si contragga. Il virus c'è, esiste, è molto grave e non si guarisce. E non si contrae con un bacio, si contrae attraverso rapporti sessuali e l'unico metodo in questo momento per chi pratica rapporti sessuali di non contrare l'ADS è, per almeno ridurre al minimo il rischio, è il preservativo. Per cui è bene che tutti i ragazzi non lo dimentichino mai e proprio per questo motivo anche insieme all'ufficio scolastico provinciale abbiamo scelto di organizzare tre visioni di un film sesso più o meno confuso che verrà proiettato al piccolo coccio il 29, il primo e il 4 dicembre proprio per i ragazzi della quarta e quinta superiore per non abbassare la guardia perché il virus è in agguato ed è giusto tenere le difese al massimo.